Nei nostri studi ci ha raggiunto il dottor Giuseppe Salvini, segretario generale di Camera di Commercio di Arezzo. Dottor Salvini, siamo qui per tracciare un primo bilancio di Gold Italy, questa importantissima fiera a livello mondiale autunnale. Come è andata? Sì, guardi, Gold Italy è un appuntamento che si ripropone da cinque anni presso il quartiere feristico di Arezzo. Una fiera dedicata alla miglior oreficeria italiana, rigidamente italiana. Sono stati quest'anno ospiti della nostra struttura oltre 300 marchi italiani e devo dire che questa fiera, pur collocandosi in un momento particolare, perché questo momento autunnale è caratterizzato da tante fiere nel mondo, basti pensare alla settimana scorsa a Istanbul, la settimana prima ancora a Hong Kong, la prossima settimana la fiera di Dubai, quindi è un calendario estremamente ingolfato di appuntamenti fieristici. Quindi, nonostante questo, devo dire che si è mantenuta questa fiera sui livelli dello scorso anno, ma devo sottolineare che il quartiere fieristico su cui la Camera di Commercio negli anni ha investito moltissimo, sia nella struttura che negli eventi, si è dimostrato capace di ospitare fiere molto glamour. L'allestimento è stato molto curato, l'art director Beppe Angiolini si è sbizzarrito con ricreare delle ambientazioni molto orientate alla moda, al fashion, alla tendenza più attuale, quindi ecco, questa fiera si è localizzata in un quartiere straordinariamente attualizzato, curato, fine minimi particolari. L'aspetto più importante è poi che anche l'intera città di Arezzo ha vissuto l'evento con la Gold Night, cioè si è vestita d'oro la città per ospitare le delegazioni straniere e i gioieglieri italiani.